Ciao amici di Bricomaghi, questa mattina volevo introdurvi un nuovo progetto per un gioco didattico che stiamo realizzando. Si tratta di un cavallino di quelli diciamo tradizionali, un po' di gusto nordico, cavalcabili e realizzabili a partire da un semplice bastone di legno, quindi ad esempio il bastone di una scopa va benissimo. Il progetto fa sempre parte del nostro lavoro legato appunto alla festa del craft fiabesco e al discorso appunto della malvagia strega dell'ovest, ma ve ne parleremo meglio. Comunque, perché questa diretta? Perché volevo appunto farvi vedere come con un semplicissimo tubolare realizzato con questa macchinina qui che vedete di cui vi farò vedere questa settimana appunto di utilizzo. Stiamo appunto rivestendo la testa di quello che diventerà appunto il nostro cavallino. È un'idea perché molte di voi si chiedono che cosa possono fare con questo tipo di tubolari, vengono in mente sempre le stesse cose generalmente, scaldacolli, sciarpe, ma ripeto ci possiamo sicuramente sbizzarrire anche in progetti legati appunto alla didattica e mi rivolgo in particolare alle insegnanti, comunque alle mamme creative e con appunto i giochi didattici. Anche perché se utilizziamo magari un calzino sicuramente l'oggetto ci viene più piccolo, qui come potete vedere la testa del cavallo sta diventando abbastanza grande. Ma come abbiamo fatto? Ora vi faccio vedere. Allora, innanzitutto abbiamo realizzato la sagoma della testa appunto in gomma piuma e ne abbiamo realizzate due. Ma non è tanto questo quello che vi voglio far vedere oggi, quanto l'utilizzo che è stato fatto appunto del tubolare. Come potete vedere questo è un tubolare abbastanza grande appunto, abbastanza lungo voglio dire, realizzato con la Prim Kingside, diciamo la più grande appunto di casa appunto Prim, perché poi c'è anche una macchina più piccola per realizzare generalmente calzini, comunque diciamo anche bubazzi naturalmente, però comunque il tubolare è sicuramente più stretto. E volevo farvi notare lo spessore che non è, avendo utilizzato il filo diciamo che è quello più adatto per questo tipo di macchina che è appunto il filato numero 4, per uncinetto numero 4 non viene particolarmente fitta la trama. Quindi generalmente chi segue Bricomaghi lo sa, tende ad utilizzare questi tubolari doppi, cioè le realizzo nella misura diciamo così doppia, nella lunghezza doppia rispetto a quella che mi è necessaria e poi appunto lo metto doppio. Questa è un'idea furba anche se dobbiamo andare a realizzare ad esempio dei berrettini, ma molte di voi si chiedono e mi chiedono come fare a evitare che si veda diciamo così la parte dietro del nostro lavoro, perché comunque questo tipo di macchine per maglieria, eccola qui, questo tipo di macchine per maglieria, ci consente di realizzare una maglia cosiddetta rasata. Quindi qui abbiamo il davanti del nostro lavoro e qui abbiamo appunto il dietro del lavoro. Allora che succede? Succede che uno dei dubbi che generalmente si pone e le questioni che si pongono è proprio questo, cioè come fare ad evitare, sì è vero io lo metto doppio, però poi magari mi ritrovo con il retro del lavoro nella parte diciamo utile, quella appunto che mi serve e che si deve appunto vedere. Quindi come fare? Allora semplicemente noi andiamo a posizionarci a metà della lunghezza del tubolare che abbiamo appunto deciso di utilizzare. In questo caso io ho usato due colori, ma anche per comodità didattica per voi che mi seguite, per farmi proprio vedere, però non è diciamo una cosa assolutamente necessaria usare due colori diversi. Chiaramente, questa è un'altra idea furba, se voi avete dei gomituri ad esempio avanzati e volete dare comunque spessore e diciamo spessore alla trama perché magari dovete poi andarla a rivestire con della gomma piuma, come stiamo facendo noi, oppure a riempire con dell'ovatta appunto, quindi magari per realizzare un amicurumi o un pupazzo, chiaramente se usate questo tipo di spessore da solo, cioè non doppio, l'imbottitura vi si vede sotto, vedete si vedono le mie dita, quindi sicuramente non viene un bel lavoro e questa è un'altra ragione per cui poi molti abbandonano perché dicono ma non mi è venuto bene anche perché se poi si decide magari di andare a utilizzare del filato più spesso, generalmente comunque non va bene nel senso che a quel punto il filato troppo spesso non viene caricato bene dalla macchina, quindi vi dà dei problemi proprio di lavorazione. Il filato più adatto è questo perché comunque vi permette di scorrere bene sulla macchina però ripeto il risultato a volte se uno può appunto deve andare a fare dei lavori di riempitura poi del tubolare può risultare appunto deludente, io parlo chiaramente di trama più o meno fitta appunto quindi come facciamo? Allora ci posizioniamo appunto a metà del tubolare, semplicemente lo prendiamo in questo modo e andiamo a far passare quello che è uno dei due lati all'interno. Considerate che quando facciamo questo lavoro qui e abbiamo già fatto uscire chiaramente il tubolare dalla macchina, non dobbiamo andarlo a fissare in alcun modo quindi attenzione perché quando il tubolare esce dalla macchina il filato, diciamo così, il filo non è fissato voglio dire vi si disfa, quindi attenzione ai due fili che escono, uno da una parte e uno dall'altra non tirate nulla, cioè fate uscire il lavoro e lasciatelo così com'è perché poi lo dovrete andare a chiudere dopo però attenzione chiaramente perché sennò appunto vi si disfa quindi come avete potuto notare adesso siamo sul dritto del lavoro comunque perché una parte è stata appunto inserita all'interno tra l'altro vi dicevo potete anche scegliere di usare magari due colori non lo so se avete dei gomitoli avanzati e scegliere di inserire, magari iniziate con il filo diciamo che non si deve vedere o comunque che si deve magari vedere soltanto di cui si deve vedere magari soltanto un pezzettino se dovete realizzare ad esempio uno scaldacollo potete vedere l'effetto è bicolore oppure un cappellino di qui vi ritrovate perfette cioè da un lato non ci dovete fare praticamente nulla se appunto vi lasciate anche un piccolo gioco di filo interno del filato che avete utilizzato sempre che usiate chiaramente dei filati differenti vi trovate anche con un bordino perfetto a cui non dovete fare assolutamente nulla tra l'altro abbiamo sul nostro canale youtube blog di Bricomaghi realizzato un video tutorial lo trovate appunto sul canale blog di Bricomaghi per un cappellino dove vi spiego questa tecnica utilizzata su un cappellino da donna e da bambino chiaramente come appunto volete è sicuramente una modalità questa di procedere in particolare per i berrettini adesso andiamo un po' nella stagione quindi cominciamo ad utilizzarli molto molto rapida quindi parliamo di realizzare un berrettino veramente in 20 minuti tra l'altro tra l'altro una cosa diciamo interessante e voi potete andare a realizzare sempre che vogliate realizzare appunto un berrettino in questa modalità e ve lo ritrovate anche abbastanza spessotto perché vedete che poi la trama avendo inserito l'altro lato del tubolare all'interno ve la trovate abbastanza spessotta chiaramente vi ritrovate comunque un berrettino abbastanza spessotto abbastanza pesantino e quindi diciamo vi ritrovate questo il bordo da questa parte è praticamente perfetto non ci dovete fare nulla da questa parte se voi volete realizzare il berrettino semplicemente andate a tirare tutte e due i fili insieme e vi faccio vedere come adesso vabbè vi spiego un attimino questo del berrettino però il discorso era chiaramente quello del gioco didattico voi andate a tirare questi due fili e semplicemente a chiudere il vostro cappellino uno da una parte e uno dall'altro tra l'altro se volete potete tirare distintamente i due fili in modo da crearsi si crea diciamo un piccolo come dire bordino anche da questa parte oppure potete decidere semplicemente di prenderli entrambi in questo modo in modo che non si veda da questa parte l'interno tirate tutti e due i fili insieme con un piccolo punto di cucitura andate a chiuderlo dal dentro in modo che non si vede che non si veda e poi se il cappellino magari per un bambino insomma come volete potete andare a inserire magari anche un pompon realizzato in lana questo chiaramente è una cosa opzionale potete vedere come fare però ripeto vi ritrovate con una situazione praticamente poi perfetta la lunghezza non la state a guardare non la guardate io vi ho parlato appunto del berrettino perché ripeto con questi tubolari potete farci tantissime cose quindi sono estremamente versatili però naturalmente la lunghezza in questo caso non è corretta se andiamo a realizzare un berrettino nel caso specifico della nostra testa diciamo così di cavallo abbiamo appunto realizzato queste sagome in gomma piuma e poi andiamo semplicemente a rivestirle considerate che il tutorial completo lo troverete come sempre sul nostro blog bricomaghi.blogspot.it io approfitto di queste dirette perché chi si collega mi può fare chiaramente delle domande ripeto è una diretta in questo caso un pochino chiacchierina che introduce proprio all'utilizzo specifico di questa macchina ci tengo a parlarvi di questa macchina in particolare cioè della PrimMidi e del risultato perché molti si chiedono e si si chiedono diciamo come viene il lavoro questo è il lavoro voglio dire viene piuttosto bene considerando anche che è una macchina di fascia abbastanza diciamo economica io consiglio sempre di lavorare il doppio del richiesto ripeto poi se avete anche degli avanzi di filo potete anche usarli magari per realizzare la parte interna che quindi non si andrà poi a vedere e questo vi consente anche di riciclare del filo che magari avete ma non vi piace particolarmente magari non volete che si veda alla fine lo mettete semplicemente nel lato interno del vostro appunto tubolare quindi una volta che avete concluso io consiglio di andarlo ad inserire all'interno di andarlo ad inserire per appunto come dire rivestire appunto le nostre sagome in in gomma piuma in modo che la parte diciamo così aperta vada a risultare sulla punta della sagoma questo perché poi semplicemente a quel punto tirate andate a chiudere mentre sulla parte diciamo del collo che poi andrà a contatto con il bastone vero e proprio per creare appunto il giocattolo didattico e rimane appunto la parte a bordo quindi semplicemente andate a prendere il vostro lavoro ad inserirlo all'interno considerate che è estremamente versatile estremamente plasmabile quindi veramente con questi tubolari potete fare di tutto di più anche realizzare naturalmente naturalmente pupazzi pupazzi didattici pupazzi amigurumi sempre però usando ricordatevi di usare il tubolare doppio quindi di realizzare sempre con la vostra macchina il doppio della lunghezza del tubolare che vi necessita in modo da non rimanere deluse cioè da ottenere comunque una trama vedete bella spessa che vi consente da una parte di lavorare con il filo adatto quindi di non dare assolutamente alcun problema alla vostra macchina durante appunto l'utilizzo ma di ottenere poi alla fine una trama spessa anche se avete utilizzato il filo sottile adatto alla macchina e che vi consente poi di inserire dell'imbottitura di rivestire della gomma piuma come stiamo facendo questa mattina per realizzare il nostro cavallino nostro gioco didattico un po' vintage il cavallino cavalcabile e so che molti utilizzano anche dei semplici calzini per fare questo tipo di operazioni però voglio dire è sicuramente un'idea ulteriore per utilizzare questo tipo di macchine per maglieria nella prossima diretta quindi questa l'ho usata per farvi vedere il risultato nella prossima diretta andremo a vedere proprio l'utilizzo della macchina a livello di tubolare chiedete chiaramente ciao Manu fate domande chi si collega in diretta i video rimangono sulla pagina sempre quindi non è che vengono tolti per cui li potete continuare a vedere vedete quello che vi interessa potete commentare anche dopo naturalmente indifferita fare praticamente come meglio volete e come meglio potete soprattutto perché chiaramente ognuno fa e vede quando può però ripeto nella prossima diretta mi farebbe molto piacere oltre a farvi vedere poi nelle prossime dirette il discorso tubolare ma anche il discorso telo aperto perché so che l'ho detto più di una volta è un po' diciamo una un problema nel senso che molti abbandonano l'utilizzo di queste maglierie proprio perché non riescono a realizzare il telo aperto in realtà ve lo dico sottovoce quando andiamo a usare il telo aperto non tutti gli aghi lavorano quindi non è la procedura uguale a quella del tubolare non basta semplicemente posizionare diciamo così la levetta su telo aperto e poi procedere allo stesso modo perché alcuni aghi non lavorano ma ne riparleremo seguiteci nel frattempo se vi siete incuriositi e volete realizzare un berrettino ad esempio avete già la macchina in casa e vi piace l'idea di realizzarlo così in semplicità potete andare appunto sul nostro canale blog di Bricomaghi trovate il tutorial proprio per realizzare il berrettino tra l'altro molto furba l'idea magari di realizzarne più di uno e in maniera molto svelta e rapida rispetto alla procedura ai ferri o all'uncinetto e poi invece sbizzarrirvi in quella che è la parte più creativa della realizzazione di questi berrettini cioè la decorazione quindi decorare a tema ad esempio Halloween piuttosto che a tema natalizio personaggi dei cartoni animati personaggi coniglietti gattini cagnolini quello che volete considerate che voi potete andare a realizzare con questi tipi di macchine dei berrettini così come vi ho fatto vedere cioè in grandissima semplicità con appunto il tubolare doppio eccetera come vi ho spiegato nella diretta molto rapidamente quindi non so parliamo di una ventina al giorno voglio dire a quel punto tutto il tempo vi resta da dedicare alla decorazione di questi berrettini alla fantasia che vi suggerisce appunto la decorazione di questi berrettini e devo dire che da appassionata sicuramente di uncinetto e di ferri perché io vengo da lì chiaramente ho scoperto dopo questo tipo di maglierie trovo la cosa comunque carina divertente perché comunque la realizzazione diciamo della del berrettino in sé parliamo di berrettini ma potremmo parlare anche di sciarpe chiaramente è un po' la parte diciamo più lunga chiaramente sempre che parliamo naturalmente di oggetti che potremmo decorare per i nostri bambini potremmo chiaramente sbizzarirci appunto con la nostra fantasia a creare adesso appunto ripeto andiamo nella stagione quindi sotto con i berrettini e allora puoi farci qualche modello per i capottini per i cagnolini si vanno sicuramente infatti era una cosa che avevo in progetto tra l'altro io ho un cane uno schnauzzer di taglia media si chiama Mosè questo diciamo però voglio dire appunto è un argomento sicuramente che ho in programma di trattare e tra l'altro ripeto è sicuramente una macchina talmente versatile che sicuramente può andare a realizzare in semplicità anche quello che dici tu Manu senza stare diciamo come dire a faticare molto appunto tra l'altro ripeto imparando a usare anche il telo aperto possiamo andare a realizzare questi capottini non solo per cani di taglia piccola cosa che chiaramente è indispensabile se andiamo a realizzare con i tubolari ma appunto con la versatilità che ci dà il telo aperto possiamo veramente andarci a sbizzarrire con le taglie quindi Manu seguici perché sicuramente uno dei prossimi progetti con diretta sarà il cappottino ci tengo a dire che le nostre dirette sono molto chiacchierine quindi sono proprio fatte per chiacchierare quando invece andate a cercare qualcosa di specifico e qualcosa di operativo immediatamente operativo vi consiglio il nostro canale youtube blog di Bricomaghi sulle macchine per maglieria già ci sono tantissime idee per tecniche eccetera quindi vi rimando appunto alla prossima diretta vi ringrazio e vi mando un abbraccio grandissimo ciao Manu grazie di averci seguito alla prossima ciao ciao